Vengo da Forlì, mi sono iscritta al CPM nel 2018. L'anno scorso mi sono laureata in canto percorso AFAM. Grazie al CPM ho avuto l'opportunità di fare il casting per diventare la corista della band La Iene e il Drago, con Andrea Gresti, Giorgio Vanni e Max Longhi attualmente in tour in tutta Italia. I casting si sono tenuti qui e la band è attualmente formata da cinque musicisti del CPM, tra cui cori, chitarra, basso, batteria e tastiere. Principalmente suoniamo full band in contesti vari, soprattutto in fiere e comics in giro per l'Italia. Ho preso parte a molti altri casting, tra cui quello che mi ha permesso di far parte della band di supporto a NEC, insieme a Maxelli, che è il nostro insegnante qui al CPM, e suo chitarrista. Il titolo della mia tesi è stato Lucio Dalla, dal jazz al cantautorato. In questa occasione ho avuto la grandissima opportunità di portare sul palco del CPM il chitarrista storico di Lucio Dalla, Ricky Portera, e il batterista Roberto Gualdi, nonché responsabile del dipartimento di batteria qui al CPM. Con loro ho eseguito Futura, Stella di Mare e Tu non mi basti mai, prima di spiegare nel dettaglio lo scopo della mia tesi. Ovviamente è stato un momento molto emozionante, perché Lucio Dalla è da sempre uno dei miei autori preferiti. Nello specifico ho analizzato le fasi della sua carriera, da quando io era un clarinettista jazz, ed arrivando alla fase che conosciamo tutti, che è quella di Lucio Dalla, cantautore pop. In CPM ho studiato canto nei vari generi, con Roberta Granà, Tommaso Ferrarese e Andrea Rodini. Ho approfondito anche lo studio del pianoforte complementare, insieme a Filippo Rinaldo e Giuliano Lecis, che ha ampliato i miei orizzonti da musicista. Il CPM è senz'altro un luogo in cui ho instaurato dei rapporti umani molto importanti per il mio futuro, non solo da musicista. In questo momento i miei studi stanno proseguendo, infatti sto studiando doppiaggio e recitazione. Mi piacerebbe che anche questo fosse un ambito lavorativo plausibile, oltre a quello di musicista ovviamente. Grazie CPM, vi aspetto in giro per l'Italia. Seguite il tour della Iene e il Drago.